Il cliente ha sempre ragione, i clienti non sbagliano mai e altre frasi di questo tipo affollano l'immaginario comune. E poi in fin dei conti sono proprio i clienti che pagano, quindi sembra proprio che li dobbiamo accontentare in tutto e per tutto. Oggi però sono qui a farvi un contenuto per segnalarvi alcuni errori che i nostri clienti commettono quasi immancabilmente quando si trovano loro stessi a dover scattare delle immagini o anche semplicemente quando si trovano a dover valutare i tempi, le risorse necessarie per realizzare una foto e anche l'effettiva fattibilità del loro progetto. Consiglio a tutti, fotografi o aspiranti tali, di seguire questo video fino alla fine perché ogni errore che andrò a sottolineare potrebbe essere un grimaldello che potrete utilizzare per prendere un lavoro da un cliente facendogli notare che effettivamente non ha proprio sempre ragione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e anche oggi parliamo di fotografia e videomaking. Tutto quello che vi dirò oggi vale sia per la foto sia per il video. Io mi concentrerò sulla parte fotografica ma sono concetti abbastanza orizzontali. Prima di cominciare vi ricordo che su questo canale io mi occupo di recensioni, di attrezzatura, foto-video e tutorial sul campo. Quindi sia post-produzione sia shooting veri e propri. Se questi argomenti ti interessano io ti consiglio di iscriverti cliccando il bottone qui sotto, attiva anche la campanella così non ti perdi i prossimi aggiornamenti. Metti anche un like a questo video perché sono sicuro che imparerai qualcosa di utile. Ulteriore motivazione per convincervi a seguire il mio canale. Ho recentemente abolito la schiavitù e ho liberato tutti gli umpa-lumpa che lavoravano per me. Per cui da oggi in poi tutte le luci nel mio studio le vado ad accendere io personalmente e non ho più gli schiavi da comandare con la frusta. Vado con il primo motivo che è un po' una menzione speciale e un po' un meme. Ovvero i clienti non hanno la minima idea di quanto tempo serva per realizzare una qualsiasi cosa a livello grafico, fotografico o video. Ci saremo sentiti dire mille volte la frase tanto ci metti 5 minuti. Questa non è soltanto la dimostrazione che i nostri clienti vogliono fare i furbetti. È anche la dimostrazione che i nostri clienti vogliono fare i furbetti. Ma spesso e volentieri loro stessi non hanno la minima idea di quanto ci si metta. E quindi tirano a indovinare e pensano se dovessi farlo io probabilmente non riuscirei a dedicare più di 5 minuti a questa cosa. Perché dopo mi stuferei e passerei ad altro. E questo è il loro ragionamento. E in base a questo stabiliscono che qualsiasi cosa ci deleghino di fare dovrebbe essere fatta all'incirca in 5 minuti. 10 minuti se la facciamo con una mano sola mentre giochiamo col telefono con l'altra mano. Questo ci porta direttamente al secondo punto. Ovvero i clienti sono la vittima perfetta. Sono proprio un esempio conclamato di sindrome di Dunning-Kruger. Per chi non lo sapesse la sindrome di Dunning-Kruger descrive una situazione in cui una persona essendo ignorante in una materia, in un ambito come può essere quello fotografico. Tende a giudicarlo in maniera molto più semplicistica di quello che in realtà dovrebbe. Tende ovvero a dire siccome lo vedo fare e mi sembra facile quello che sto vedendo allora credo di saperlo fare. Vi capita mai di guardare una partita di calcio e di dire cavolo portiere quella la parava anche mia nonna? Ecco, quello è un esempio perfetto di sindrome di Dunning-Kruger. Io lo vedo da fuori per cui ho il vantaggio di essere terzo alla vicenda. Non sono coinvolto, non ho l'adrenalina in corpo, non ho paura di sbagliare. Lo guardo da fuori con la massima serenità mentre sono al bar con un crodino in mano. L'unica cosa che riesco a pensare è che probabilmente io senza tutta la tensione, senza nessun tipo di coinvolgimento, l'avrei fatto meglio. Non c'è niente di più sbagliato perché se io fossi stato in porta probabilmente mi sarei preso una pallonata in faccia, sarei svenuto a terra e avrebbero segnato comunque. Ecco, questa è esattamente la cosa che succede nel momento in cui un nostro cliente deve valutare quanto ci metterebbe o quanto difficile è il nostro lavoro. Il nostro cliente guarda il risultato, guarda una bella foto, guarda una grafica, guarda un post per i social media, qualsiasi cosa, e la sua reazione è semplicemente, beh, cosa ci sarà voluto? 5 minuti e comunque me lo facevo anche da solo. Quindi la reazione del cliente è quasi sempre che crede di starcelo facendo fare a noi solamente perché non ha sbatti di farlo lui. Non c'è niente di più sbagliato e il problema è che il cliente molte volte non se ne accorge nemmeno di non essere capace. Perché quando lo fa lui, a lui le sue schifezze piacciono pure. Quindi questo è difficile farglielo capire. Un altro errore che fanno sempre i nostri clienti è che sottovalutano il mezzo fotografico. Esistono dei contesti, per esempio se siamo in spiaggia e ci stiamo facendo un selfie, in cui lo smartphone va benissimo. Esistono invece dei contesti un po' più specialistici come può essere per esempio la fotografia di interni o la fotografia industriale, ambiti in cui io lavoro abbastanza spesso e quindi conosco molto bene la materia, esistono degli ambiti in cui con lo smartphone non ce la caviamo. Vuoi perché siamo in un contesto che non è la spiaggia caraibica con il sole a picco, quindi abbiamo meno luce. Quindi il nostro mezzo fotografico è maggiormente messo alla prova. Uno smartphone in un contesto buio non performa bene. Figuriamoci un contesto buio in cui bisogna anche avere uno scatto rapido perché dobbiamo seguire un movimento veloce come può essere quello di un braccio meccanico in una camera industriale non ben illuminata. Sono tutte situazioni dove il mezzo fotografico ha un ruolo di primo piano e ovviamente un cliente che pensasse di potersi fare il lavoro da solo semplicemente passeggiando con uno smartphone e facendo due foto, rimarrebbe molto ma molto male nello scoprire che è stato vittima della sindrome di Dunning-Kruger. Proprio come un cliente normalmente non riesce minimamente a valutare il mezzo fotografico, allo stesso modo non riesce nemmeno a leggere una scena dal punto di vista dell'illuminazione. Sapete quante volte mi è capitato di vedere clienti che scattano una foto in una condizione di illuminazione pessima laddove sarebbe bastato girarsi di due gradi per avere una situazione di illuminazione molto ma molto migliore. Il cliente non ci pensa minimamente, non ci arriva che una situazione di illuminazione di un certo tipo può essere vantaggiosa o svantaggiosa. Il cliente pensa ora faccio una foto e la foto la fa esattamente nel momento in cui gli viene l'idea di farla e esattamente nel punto in cui gli viene in mente di farla. Non valuta minimamente di spostarsi, di spostare il soggetto, di spostare la luce, non valuta nessuna di queste cose. Semplicemente point and shoot. Questo è un punto debolissimo dei nostri clienti che possiamo utilizzare a nostro vantaggio non per fargli presente che potevano farla in un altro modo e che veniva meglio e che la prossima volta possono farsela bene da soli ma per fargli presente che se vogliono essere sicuri che tutte le loro foto vengano bene possono affidarsi a qualcuno che sa leggere la scena. Ovviamente da questo deriva anche che i clienti non sanno illuminare la scena. Illuminare una scena non è una cosa semplicissima. Bisogna pensare che c'è una luce principale nella stragrande maggioranza dei casi anche delle luci secondarie. Per questo motivo dobbiamo avere bene in mente il tipo di effetto che vogliamo ottenere. Più il nostro stile fotografico diventa tecnico, più è tecnico il tipo di foto che dobbiamo realizzare e più dobbiamo avere piena padronanza dell'illuminazione. Ovviamente torno all'esempio di prima, se stiamo facendoci un selfie su una spiaggia a Miami non ha molta importanza la luce. C'è il sole, ci sono le palme, c'è una bella fanciulla, chi se ne frega della luce? Non gliene frega niente a nessuno della luce, non stiamo certo guardando la luce in una foto come quella. Se viceversa stiamo fotografando un anello di fidanzamento con i diamanti, la luce diventa un pochettino più importante così come anche il fondale, è importante illuminare il nostro soggetto in maniera tale che renda al meglio perché lì non è più un selfie, lì è una fotografia di prodotto che è una cosa tecnica. Ci sono delle regole che vanno rispettate. Anche qui io non credo che sia il caso di andare dai nostri clienti e spiegargliele tutte però anche questo è un grimaldello per fargli notare e dirgli vedi quando te la fai da solo non viene come sui cataloghi di un brand famoso che è nel tuo stesso target. Se le vuoi fatte in quel modo bisogna farle in un certo modo. Tu non sai quanto tempo ci si mette, stai sottovalutando la preparazione necessaria per ottenere quel risultato e soprattutto stai sottovalutando il tempo necessario per ottenere quel risultato. Quindi ti conviene affidarti a qualcuno che lo sappia già fare. Proprio lo stesso motivo per cui io non mi metto da solo a ripararmi il lavandino perché ci metterei un sacco di tempo a imparare come si fa, a procurarmi i pezzi e non mi conviene perché io voglio fare il mio di lavoro e quindi mi affido a qualcuno che lo sa già fare. Un ragionamento incredibilmente semplice e lineare. Un difetto pesantissimo di tutti i nostri clienti nel momento in cui cercano di realizzare da solo in autonomia qualcosa di grafico o di fotografico è la loro totale ignoranza su quelle che sono le regole di composizione. A livello prettamente fotografico non conoscono nemmeno la regola dei terzi, non conoscono le regole delle linee cadenti, ignorano qualsiasi tipo di regola inerente al buon gusto e alla corretta esposizione. Semplicemente si limitano a scattare così come viene. Il che significa che nel 90% dei casi avremo dei problemi molto pesanti di composizione, avremo le linee cadenti, avremo un'esposizione non corretta, avremo una totale non curanza di quelle che sono le normali regole per realizzare uno scatto ben fatto. Il che ci porta al prossimo punto. I nostri clienti scattano a caso. Nel senso che impugnano lo smartphone e se ce l'hanno in mano verticale scattano in verticale, ma se gli viene in mano orizzontale scattano in orizzontale. Non hanno la minima idea che una foto verticale è diversa da una foto orizzontale. Non sanno che cosa comporta scattare in verticale e che cosa comporta scattare in orizzontale. Quante volte ci si sente dire puoi prendere questa foto verticale e farmici un post di Facebook quadrato? E diventa difficile perché se era un ritratto taglio la testa ai piedi, viene una schifezza. Se era invece una foto orizzontale e mi sento dire usala in una storia, stessa cosa. Abbiamo magari un panorama o una foto di interni orizzontale e io mi sento dire che la devo mettere in verticale usando solo la porzione centrale. Questa è probabilmente una delle mancanze più gravi dei nostri clienti perché non hanno la minima idea nemmeno di che cosa dovrà essere fatto con la foto che stanno scattando. Per cui si limitano a scattarla e ci penseranno dopo al risultato finale che vogliono ottenere. Allo stesso modo ai nostri clienti manca la perizia anche quando si tratta di fare la post produzione. Per i nostri clienti fare la post significa aprire l'immagine su Instagram e tirare due fader. Quella non è post produzione, quella è una pezza. Stiamo semplicemente cercando di prendere una foto brutta, fatta male, la mettiamo in bianco e nero oppure la strassaturiamo e tiriamo i cursori da tutte le parti alla disperata ricerca di un qualcosa che ce la faccia sembrare meno terrificante. Ovviamente i clienti non sanno che cos'è la post produzione vera, non hanno la minima idea di che cosa significhi lavorare per esempio in Photoshop con i livelli oppure lavorare sul negativo digitale. Non lo sanno e quindi non conoscono nemmeno l'output finale di una lavorazione professionale o se lo conoscono probabilmente se lo sono dimenticato perché è troppo tempo che non assumono un fotografo professionista. In questo senso possiamo fargli vedere la differenza tra quello che facciamo abitualmente e quello che riesce a ricavare da solo e questo può essere un buon gancio per convincerlo che è arrivato il momento di portare la sua produzione a un livello successivo. Un altro ennesimo difetto molto pesante dei nostri clienti è che non sanno che cosa vogliono ovvero nel momento in cui hanno magari un prodotto e scattano una foto non stanno pensando se quella foto dovrà finire in un post di Instagram o su un e-commerce con sfondo bianco non ci pensano minimamente, loro fanno la foto, dopodiché si ritroveranno a pensare ma questa foto che ho fatto con uno sfondo molto costipato di altre cose che non andavano bene posso metterlo sull'e-commerce oppure viceversa ma questa foto del mio prodotto su un foglio di carta bianco posso usarlo come post di Instagram oppure è troppo semplice e non se lo fila nessuno ci pensano dopo non hanno la minima concezione di pensare prima alla destinazione finale di quello che stanno facendo perché hanno comunque la concezione che siccome ci devono mettere 5 minuti tanto vale farla come viene che tanto va bene così arriviamo alle battute finali e vi presento un difetto in cui vi sarete imbattuti diverse volte se fate questo mestiere moltissimi clienti non sono assolutamente in grado di ammettere quando sbagliano nel momento in cui gli si fa notare con la più ampia gentilezza e disponibilità possibili che una cosa che hanno pensato o realizzato non funziona o non è adatta allo scopo o entrambe semplicemente non riescono ad ammetterlo loro vogliono averla vinta semplicemente perché sono i clienti che pagano e quindi in qualche maniera si rifiutano di stare a sentire quella vocina fastidiosa che gli dice guarda che così non funziona è meglio farlo in un altro modo niente da fare loro lo vogliono fatto in quel modo ovviamente sta anche a noi decidere se vogliamo prendere clienti di un certo tipo se pensiamo di poterli raddrizzare col tempo se vogliamo tenerceli così oppure se preferiamo lasciarli nel loro brodo e attenzione non siamo obbligati a prendere tutti i clienti e non siamo obbligati a trasformare ogni caso umano là fuori in un nostro problema personale bene l'ultimo difetto che vi riporto che però non è certo il meno grave i clienti fanno molta fatica a dare il giusto prezzo al nostro lavoro per cui la maggior parte delle volte dobbiamo essere noi a stabilire quale sia questo prezzo perché se noi chiediamo a un cliente quanto è disposto a pagare per le foto il cliente automaticamente penserà beh io cliente ci metto 5 minuti con lo smartphone questo qui deve venire con la macchina fotografica quindi farà ancora meno fatica perché quella roba pesante che si è dovuto portare lo agevola per cui che cosa gli vuoi dare a uno che è venuto qui e ha soltanto fatto così col dito non gli dai niente il cliente fa questo ragionamento per questo motivo io ormai credo nel 2023 che la cosa giusta da fare sia sbalordirlo sparandogliela veramente ma veramente alta perché così comincia a rendersi conto a partire dal prezzo primo che non ha a che fare con uno scolaretto alle prime armi secondo che ha a che fare con un contesto professionale dove il fotografo che sta dall'altra parte non sta giocando si sta guadagnando da vivere e se la guadagna anche bene così bene che può chiedere cifre come quella che gli sta sbattendo in faccia in quel momento io preferisco di gran lunga perdere la metà dei miei clienti se l'altra metà mi paga quello che dico io è molto importante questa cosa ed è anche questo un buon grimaldello perché un cliente sentendo una cifra più corposa di quello che aveva preventivato automaticamente penserà beh ma cosa fa questo qui per chiedermi una cifra così alta quello è un momento in cui un cliente onesto può trovarsi a pensare forse ho sottovalutato la cosa se questo meccanismo nel cervello del nostro cliente non scatta allora è possibile che sia un cliente su cui non vogliamo nemmeno insistere perché un cliente che non capisce il valore di quello che gli stiamo vendendo è un cliente che non pagherà mai volentieri quella cifra e quindi è un cliente che se decide di pagare non si accontenterà di quello che gli stiamo facendo ma cercherà di spolparci il più possibile per farsi fare più cose ovviamente dopo aver provato a tirare sul prezzo quindi dopo aver provato a farci fare il giusto del nostro lavoro ma facendocelo pagare di meno quindi è un tipo di cliente con cui io non amo avere a che fare e li prendo veramente solo se sono con l'acqua alla gola altrimenti preferisco sparargliela molto alta e poi lasciarli perdere nel loro brodo se non accettano il più delle volte si faranno fare il lavoro da qualcun altro un cugino con 3G oppure un altro fotografo che gli avrà consigliato qualcun altro e gli avranno consigliato perché è uno che sta iniziando e si fa pagare molto di meno il risultato è che probabilmente il cliente paragonerà le foto di questo fotografo alle proprie e dirà beh io ci metto 5 minuti lui ci ha messo 3 giorni a consegnarmele ma sono praticamente uguali e quindi quello è un cliente completamente perso su cui non vale nemmeno la pena insistere su tutti gli altri possiamo fare un minimo di moral suasion per andare a cercare di ficcargli nella testa il concetto che non sono capaci proprio come noi non siamo capaci di fare il loro di lavoro e quindi come noi ci affidiamo a loro per esempio io mi affido al mio amico lucchino quando voglio una torta o quando voglio un cocktail mi affido all'amico luca di 9000 giri che saluto e ringrazio quando ho un problema alla macchina mi affido al mio idraulico quando devo fare una riparazione per le tubature allo stesso modo tutti quanti loro quando hanno bisogno di una foto vengono a chiedere a me non se la fanno da soli bene amici io ho parlato anche troppo a questo punto lascio spazio a voi nei commenti fatemi sapere se avete trovato altre criticità altre cose che i clienti sbagliano sempre e non lo vogliono ammettere parliamone giù nei commenti raccontatemi le vostre esperienze vi ricordo anche di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale così non vi perdete i prossimi aggiornamenti e io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao ciao